Quando siete pronti? Io ci sono, noi anche, quando vuoi. Posso partire? Allora, leggerò il comunicato che sto per farvi in quanto avrò la certezza che nulla da me dichiarato oggi possa essere riportato o malinterpretato da chi che sia. Primo punto, Corda. Il caro Corda tramite il suo legale ha dichiarato non ho mai preso un euro da Enrichiello. Ebbene sì, è la verità. Infatti non ha preso un euro, ne ha presi 90.000. Con un bicorda nell'estate 2009, presentato da amici in comune. Inizialmente salì da voi in quanto mi viene proposta una casetta nei pressi del comune, che sempre, se non ricordo male, redditò proprio il comune di Crodo. Ho un lontano ricordo di questa casa, un affresco su una facciata. Poi dopo quella visita probabilmente Corda capì che potevo fare al caso suo e da lì è partita questa triste vicenda. Inizio a credere che Corda fosse sincero, in quanto sino a che le cose non precipitassero ha sempre dimostrato che quello che fermava si poteva realizzare. Come ad esempio il famoso pranzo con il senatore Walter Zanetta, l'appuntamento in provincia con il dottor Nobili, o l'appuntamento con il sindaco di Baceno Signorini, oppure quando visitavo gli uffici della comunità montana presso i termini di Crodo e mi disse che li avrebbe spostati proprio per agevolare i nostri futuri affari, li definì appunto dei contadini caproni, che non avrebbero capito, oppure quando mi portò all'interno dei nuovi e dei vecchi capannoni campari, pavoneggiandosi davanti a loro del fatto che avrebbe evitato di far demolire parte dei suddetti dichiarati pericolanti e che gli avrebbe concesso di costruire un deposito all'interno della loro proprietà di circa 5.000 metri quadrati, e quindi avremmo avuto un notevole sconto sugli stessi circa 500.000 euro, tanto costava la demolizione a sgombero. Oppure quando si fece grande dicendomi che aveva fatto controllare dal maresciallo dei Carabinieri la targa della mia Bentley, scoprendo che non fosse in realtà in testa a me, ma una società di leasing. Mi disse di aver contattato anche il direttore di una delle mie banche, non ricordo se Valtelinese o Gruppo Ubi, essendo lui un ex collega. Piccole cose, ma che servirono a fargli acquisire da parte mia molta più credibilità di quella che inizialmente gli avevo riposto. Penso comunque che il sindaco Corda non volesse truffare nessuno. Ma al contrario sono pienamente convinto che credesse in tutte quelle operazioni, avendo anche acquistato per l'appunto le quote di una mia società svizzera. Ma probabilmente chi lo avrebbe dovuto aiutare potrebbe aver fatto qualche passo indietro spiazzandolo, e quindi si è dovuto accontentare di parte delle ormai note operazioni. Alla fine della mia dichiarazione vi farò sentire parte di una registrazione. Questo era scritto. Peccato che la Guardia di Finanza questa mattina alle 7 è intervenuta presso la mia abitazione. Nel milanese, sequestandomi tutta la documentazione audio-video, comprese le famose chiavette di cui vi parlavo, che ovviamente all'interno troveranno molto su cui lavorare. Quindi non potrò farvi sentire la telefonata, cercherò comunque di improvvisare spiegandovi che cosa c'è in questa registrazione. È chiaro che la mia telefonata è stata fatta solo e esclusivamente per cercare in qualche modo di fargli ammettere di aver preso quel denaro. Purtroppo non lo potete sentire, ma c'è un passaggio dove io gli accenno di aver versato del denaro, 30, 60, 90 e via discorrendo. Lui per ben due volte risponde ebbè, ebbè, quindi perdonatemi un attimo, se io parlassi con voi e esclamassi al telefono di aver investito dei soldi per un affare, per un investimento e voi non ne foste al corrente, penso che saresti i primi a dire ma di che soldi stai parlando? Lui ovviamente per diversa e per ben due volte esclama per telefono non mi va di parlarne. e io dico, se non è nulla da nascondere non mi sembra così problematico parlare per telefono quando le cose siano chiare e pulite. Capisco lo stato emotivo del dottor Nobili poco invece il fatto che abbia i miei confronto di presentare una denuncia per diffamazione. Mi sembra di aver sempre dichiarato nell'esposto e ai giornalisti che lo stesso mi ricevette e mi liquidò in maniera del tutto formale e che non so se realmente avesse preso quel denaro quella sera inoltre sempre riportato su un quotidiano dichiara che di pratica in provincia relativa all'esposto a parte un cambio di desserzione ed uso della campare nulla è stato depositato. Ma mi risulta da un documento facilmente reperibile su Google che il 25 luglio del 2011 il caro Razio Privitera, amministratore unico della IdroSRL depositò un progetto per costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Devero e dal rio San Giatto con fase di valutazione in corso esposta anche nel comune di Baceno per 60 giorni sempre a partire dal 25 luglio del 2011 firmata appunto dal dirigente Proverbio Mauro quella sarebbe dovuta essere la mia centralina NDR una della mia centralina Devo inoltre dedurre e immaginare che Nobili conoscesse il caro Privitera in quanto dal 15 al 17 settembre 2011 due mesi dopo Nobili partecipò a un convegno presso il foro Boario di Crodo nel quale avrebbe partecipato proprio lo stesso Privitera e guarda caso parteciparono anche il sindaco a Cardo Rodolfo e il senatore Walter Zanetti voglio precisare che non lo sto accusando non vorrei una seconda renuncia da parte sua ma ovviamente per me questa storia è un po' strana è piena di coincidenze ma non voglio mettere in dubbio la sua integrità e la sua istanità alla ricerca Orazio Privitera e Ottini Graziano per il momento parlerò poco dell'ingegnere Privitera e del geometro Ottini in quanto ci sono delle indagini in corso Privitera fu portato in valle da un mio contatto conosciuto proprio in Svizzera un certo dottor Franco Panzetta lo portammo diverse volte per dei sopralluoghi anche nell'ufficio del senatore Zanetta dove a quanto capì era rappresentato da un suo protetto Ottini Graziano anche perché lo stesso Ottini ci riceveva sempre proprio nell'ufficio personale del senatore ricordo infatti una gigantografia di una foto di una ragazza bionda proprio dietro la scrivania scoprì in seguito che era la figlia appunto del senatore però rimasi colpito era una bellissima foto in bianca di lei era una bellissima ragazza lo stesso Ottini fu davvero disponibile e fornìci tutto l'appoggio logistico e documentale a volte con documenti privati Enel per poter analizzare metodologie e profitti per portare a compimento uno dei progetti appunto la centralina ce ne sarebbe stata anche un'altra di centralina un po' più piccola se fosse passata prima ma di questa ne parleremo magari in una seconda volta accenerò poco anche visto che comunque questo argomento è stato toccato proprio questa mattina con la guardia di finanza presso la mia abitazione degli istituti di credito gruppo Ubi e gruppo credito valterinese oltre che di società finanziaria con la complicità dei direttori di filiale falsificando firme e documenti che è già in mano agli inquirenti ovviamente hanno fatto in modo che io potesse avere più di disponibilità economica parlo di circa un milione di euro di affidamenti ma aspetterò di incontrare gli inquirenti nuovamente e a breve per portargli nuova documentazione anche a essere equivocabile chiudo dicendo che ho letto su un quotidiano che gli inquirenti sono stupiti e indispettiti nella mia dichiarazione e vi dicendo ovviamente ho avuto modo di parlare questa mattina loro non hanno mai rilasciato almeno a loro detta una dichiarazione del genere ovviamente sono un po' scocciati perché capite che ovviamente sono delle indagini in corso però sono un folle e l'ho ribadito più di una volta farebbe pubblicità su un fatto del genere chiudo dicendovi ancora che continuerò a collaborare con voi media in quanto sono convinto che tutte le persone che seguono questa vicenda che magari hanno subito degli abusi le ingiustizie, le minacce possono in qualche modo aiutarmi a far emergere la verità perché anche loro vorranno sapere come è finita la fine e perché il caso Prodo mi ha portato al 2009 a oggi a commettere molteplici errori non solo di valutazione conseguenze negative non solo emotive fisiche ma anche giuridiche sono stato denunciato minacciato e toccato negli affetti a me più cari non sono un santo e lo ribadirò sempre troppi soldi una vita squilibrata e una fragile situazione psicofisica di quel periodo mi hanno portato ad entrare in un mondo che sicuramente non era il mio ho deciso di raccontare ogni verità dei miei ultimi tre anni ho avuto da poco uno splendido bambino e ho deciso di cambiare vita farò in modo che chiunque abbia in qualche modo contribuito a farmi arrivare a questo punto debba pagare anche lui il conto e quando dico tutti intendo tutti chi ha orecchie per intendere intenda costi quel che costi ho aiutato molte persone anche finanziariamente ed ora è il momento più critico solo poche persone saranno aiutando me i miei familiari e i miei collaboratori saranno nomi importanti per i miei collaboratori arrivo da un mondo duro quello della notte e quindi ho imparato a registrare conversazioni a video filmare incontri tutto su diverse chiavette che ahimè questa mattina la guardia di finanza mi ha sequestrato so che tutta questa vicenda potrà sembrare intrigata e piena di mistero quasi di risultare inverosimile ma sino ad oggi ogni mia dichiarazione o gran parte di esse hanno potuto trovare riscontri oggettivi vedi gli incontri eccetera per questo per questo che confido davvero la magistratura e sono certo che con l'ausilio dei miei legali avvocato Maria Giovanni Marinosci troveranno riscontro nelle mie dichiarazioni troveranno le tracce dei soldi che ho versato a corda e che non avranno remore nell'indagare a fondo affinché possa emergere la verità anche se si dovessero trovare di fronte a persone di scomodi ho finito e vi ringrazio per l'attenzione se dopo magari Gianfranco gli faccio fare delle copie allora se volete fare voi qualche domanda nel frattempo vi farò vedere un piccolo documento e ve lo faccio vedere alla fine delle domande quindi in sostanza è corda diciamo tutto è su corda diciamo gli altri sono comprimari diciamo attori di uno stesso film però sai cos'è corda io quando dico che veramente pensavo che corda fosse sincera ma lo penso ancora oggi sono convinto che anche lui si sia trovato in una situazione in cui non ha potuto mantenere le promesse fatte perché non reputo corda era una persona instabile mentalmente piuttosto che non so un povero disgraziato io immagino che corda abbia voluto in qualche modo realmente concludere questa operazione perché perdonatemi il fatto che ha acquistato comunque quel famoso 30% della barca con su T-Group poi fallita piuttosto che prendersi l'impegno avanti e indietro a fissarmi l'appuntamento con Zanetta il famoso pranzo Massimo Nobile alle 6 di sera io non so quanti di voi magari hanno bisogno di andare in provincia non chiami il giorno prima il giorno dopo l'appuntamento col presidente alle 6 del pomeriggio dove non c'è già più nessuno all'interno dei suoi uffici perdonatemi non è che penso che non sia così la prassi come con signorini poverino che poi signorini anche lì mi sembra una persona davvero corretta io non lo conosco ma per quel poco che ho sentito quando ci incontrammo quella volta lì nel suo ufficio ribadisco c'era anche un suo collaboratore ma non ricordo chi fosse mi ricordo aveva i capelli bianchi ma non mi ricordo chi era anche lì voglio dire lui non è che mi disse cose strane mi disse sì in realtà questo albergo c'è il bandone e tanti anni nessuno se lo piglia cioè questo fu concettualmente il mentre invece dopo io dentro di me pensavo eh chi se lo piglia ma lo pensavo io ti sei preso il grano per forza che troviamo la soluzione tutti perché comunque anche Massimo Nobili ribadisco mi ricevette in maniera formale ma parlamo appunto di questa centralina dei permessi di questa centralina quindi la conversazione non ce l'ha mai parlato ma non è che andai da Nobili a dirgli oh che bel salito di capelli ma lei è presidente della provincia che piacere io sono lì ma che me frega io sono venuto per avere delle rassicurazioni sul fatto che dal momento in cui avrei investito il denaro sarebbe ovviamente però non sono io sono una persona molto anche se può sembrare che non è così molto discreta io sono venuto soltanto per chiedere per informarmi volevo vedere che reazione avesse il presidente alla fine della fiera lui mi ha detto che comunque le cose erano serene non potevo dirgli ma scusa ma i soldi che hai preso ma non l'avrei mai fatto ma venditevi nei miei panni cioè giustamente io e quindi non so mai se lui le ha presi non le ha presi non posso saperlo io non ne ho idea so solo una cosa che nel parcheggio 39 euro accorta io le ho con la tra virgolette non le portò neanche su perché ricordo ancora come fosse ieri le mise in un borsone e si infilò in macchia però ribadisco cioè ormai io credevo la sua credibilità me l'aveva già dimostrata la fattibilità perché fissandomi l'appuntamento del colsenatore sinceramente pensai che realmente poi mi disse è un mio coscritto mi disse siamo cresciuti insieme le nostre figlie sono amiche la ragazza che venne a casa mia la Federica mi trovavo in un ambiente un po' particolare pensavo davvero di aver trovato la gallina dalle uova d'oro probabilmente sono un po' ingenuo può essere i soldi gli adatti 30.000 accorta nel parcheggio del terreno si gli adatti 30.000 gli diedi adesso non le date sotto mano ma gli diedi fuori dal comune di Crodo mi ricordo anche dove erano dentro un sacchetto di intimissimi perché quel giorno casualmente comprai alla mia donna dell'intimo e l'ho misi dentro il sacchettino e poi 30.000 euro perdonatemi guardi ve lo faccio a peso perché non me sono abituato sono tanti così quindi e gli altri 30 sempre accorda il giorno in cui incontrammo il senatore a pranzo il senatore va a tezzanetti e Zanetti a dire questo passaggio di Zanetti ovviamente no io direi sempre tutto accorda però io anche lì mi chiedo non voglio accusare il senatore Walter Zanetti addio me ne scampi ma perdonatemi quel giorno c'era il presidente scusate uno dei dirigenti della Campari il dottor Cavallo poi c'era ovviamente Franco Panzetta il mio collegamento con Primitera c'ero io c'era la mia assistente personale c'era l'ex amministratore delegato cioè l'ex amministratore delegato della BAC Consulting Group nonché amministratore delegato della GJ Consulting di Lugano via Vegezi numero 6 chi c'era ancora ma eravamo forse 13 persone mangiamo pure da Dio il concetto è che il senatore che cosa è venuto a fare quel giorno poteva essere anche un pranzo di piacere vuoi che Corda abbia organizzato questa cosa per farmi credere che ma anche lì se fosse una cosa fatta in questo modo mi risulta strano che dopo il senatore mi venga a dire stai sereno cioè Corda la persona che conosco da quando sei ragazzi quello che ti dice in qualche modo corrisponde a verità nel senso lui mi fece capire di stai sereno adesso le parole esatte perdonarmi da un tre anni non me le ricorderei mai ma mi disse di stai tranquillo che quello che diceva Corda che comunque la mia preoccupazione che disse anche Corda che lui all'epoca era forse presidente del parco adesso non ricordo bene però comunque centrale con il parco di Evero e mi disse che presidente del comune del parco una roba del genere questo io non ricordo però mi disse mi disse che avrebbe di stare tranquillo perché comunque avrebbero messo chi volevano loro lì perché gli disse ma se domani cambiano le cose contro chi mi devo scontrare io contro di domanda contro nessuno perché metteremo uno dei nostri chi geometro ti ringraziamo cazzo vai a vedere che dopo due anni due anni e mezzo signori adesso vabbè ho capito tutto la fantasia ma casualmente proprio ti ringraziamo e mi viene il presidente del parco vabbè è un caso è un grande caso io vi dico solo una cosa vi farò vedere un documento che penso sia abbastanza chiaro questo perché perché tanto come mi hanno detto proprio oggi gli inquirenti persone fantastiche tra virgolette guarda veramente sono state molto delicate perché avevo mio figlio che dormiva di sei mesi in casa non si possono più inquinare probabilmente ho fatto un errore di valutazione nell'esporre subito la stampa tutto però purtroppo l'ho fatto perché per il timore che anche questa volta non visto che io ho passato in una situazione un po' particolare non venisse a galla tutto e siccome adesso ho deciso di parlare a mio discapito perché signori guarda che io comunque alla fine pago qui non è questa questione ma vediamo come va io pago io il conto lo pago comunque e quindi voglio dire uno dice vabbè allora perché paghi tu ti porti tutti dietro no perché se io sto pagando un conto pago il conto degli errori degli altri non i miei perché io sinceramente è vero ho pagato la tangente ma ho sempre ribadito come ho ribadito questa mattina proprio la guardia di finanza mi è stata chiesta ho capito che l'ho pagata ma io sono venuto su per una casettina del cacchio dopodiché mi si è prospettato dal niente nel giro di due mesi il mondo intero ah i soldi ce li dà Zanetta presidente della cassa deposito prestiti ci darà 25 milioni di euro un tasso agevolato allo 0,50% perdonatemi perché non dovrei crederci perché casualmente il presidente della cassa deposito prestiti ha ragione di più e molto era proprio Zanetta io devo credergli tra virgolette abbiamo degli amici in comune che hanno lavorato per autostata e SPA non so se ricordate il vecchio Marcellino caro defunto ormai Marcellino Gavio e il quale per amicizia mi disse che avevano tramite la cassa deposito prestiti acquisito quasi 400 milioni per il discorso dei lavori che c'erano per le autostrade di cielo poi sono cifre che magari ribadisco io me l'ha riportato anche il sindaco di Crodo Corda ma io come faccio a saperlo io non ho la certezza matematica l'unica certezza che posso avere io è che ho pagato e questa non ce n'è la guardia di finanza proprio questa mattina mi ha chiesto dove prendessi questi soldi io ovviamente mi ho fatto vedere dove prendevo i soldi perché sa io dal final all'agosto del 2009 del 2009 casualmente io problemi non avevo mai non ho mai avuti mai io avevo una credibilità bancaria non indifferente casualmente dall'agosto dall'agosto 2009 fino a arrivare settembre 2009 fino a arrivare a maggio del 2010 signori io ho girato soltanto di contanti qualcosa come 400 rotti mila euro di contanti prelevati dalle banche ci sono delle documentazioni non è a caso quindi voglio dire esistono delle delle tracce io mi chiederei innanzitutto Razio Primitera ma come è arrivato da solo da voi a creare a creare a proporre questa centrale io ho visto su google se andate a vedere c'è proprio un documento dove esiste dove è presentato praticamente proprio Primitera una sorta di via per la costruzione di questo impianto idroelettrico allora se noi iniziamo analizzare che Primitera arriva per conto mio tramite il dottor Franco Panzetta arriva al sindaco di Crode così via Devero nei miei uffici sono stati molte volte nei miei uffici il senatore Conuttini quindi Devero centrale la presentazione della provincia è venuto tramite me e uno dice vabbè ma lui può essere venuto così per fare degli investimenti o uno si è proposto il mercato è libero se il mercato fosse libero loro mi dovete spiegare queste due cose qui queste sono mail originali sono copie ovviamente la magistratura questa mattina ma se ti è stato ribadisco il tutto però a meno le copie ce le ho la prima è anzi vi faccio leggere questa ci sono comunque ovviamente nelle centinaia di mail e documentazione che io ho qua ma le ho da buttare la mia assistente che scrive a Uttini Uttini che risponde alla mia assistente la mia assistente che scrive a Panzetta a Panzetta che risponde alla mia assistente la mia assistente che scrive a Uriazio Privitera che risponde a Uttini c'è un giro di mail quindi si riesce a capire che comunque siamo tutti lì stiamo facendo un'operazione se questa operazione fosse pulita nel 2010 esattamente 22 febbraio 2010 Orazio Privitera scrive a Franco Panzetta e a sua volta gira la mail a me personalmente e alla mia assistente personale come promesso ciao Orazio Privitera scrive a Panzetta a Panzetta risponde a me dicendo ciao Ivan ecco il business plane a presto fammi sapere anche perché la decisione finale era la mia volevo vedere quanto avrei dovuto incassare ovviamente perché comunque a capo c'ero io e dovevo dare spiegazione anche alla corda ovviamente perché una parte del 30% di questa operazione doveva andare a lui tramite la mia assistenza in Svizzera mi manda un business plane che è questo qui poi io vi lascerò a limite una copia tanto questo è il business plane che mandò Privitera a il carissimo Franco Panzetta che a sua volta scrisse a me qua ovviamente parliamo di cifre ma non così messaggi in qualche modo ma con la complicità del geometra ottini sono riuscito ad avere qualsiasi documento anche ribadisco privato Enel per poter far sì di arrivare a delle valutazioni infatti dovevo calcolare realmente quanto sarebbe questa operazione e quanto avrei incassata ovviamente però questo ancora uno dice vabbè può essere può essere soltanto un lavoro normale onesto però non è onesto questo allora Orazio Privitera scrive sempre a Panzetta che a sua volta scrive a me ciao Franco in allegato un possibile programma di sviluppo di un impianto mini idro a presto Orazio Privitera Franco Panzetta gira la mail a me con i relativi allegati ciao Ivan questo è quello che dobbiamo fare per proseguire io purtroppo ho avuto un brutto incidente in moto giovedì scorso ora sono a casa ho un po' di problemi con la gamba sinistra lo sapevo che non avevamo fatto questo incidente se vogliamo incontrarci facci sapere loro sono disponibili un abbraccio e questo qui è l'allegato l'allegato di questa mail quindi Orazio Privitera è disponibile a fare che cosa a fare costituzione di una società veicolo che dovrà richiedere l'autorizzazione di costruire l'impianto uno studio di ingegneria realizzerà la progettazione e tutta la documentazione necessaria affinché la società veicolo possa richiedere l'autorità comune provincia e regione vi lascerò una copia l'autorizzazione per realizzare l'impianto idroelettrico una volta ottenuta l'autorizzazione la società veicolo sarà ceduta secondo le seguenti modalità a una prima rata pagata all'inizio dei lavori pari a 100.000 euro b una seconda rata pagata all'inizio del secondo anno di lavori pari a 250.000 euro e c a partire dal primo anno e per i successivi dieci anni di funzionamento saranno poi corrisposte dieci rate annue ciascuna pari al 6,2% dei ricavi annui dell'impianto le abbiamo pari a circa perché ovviamente li vedi a fine anno 45.300 euro l'anno considerando il prodotto tra le ore di producibilità dell'impianto in ogni ora pari a 3.300 ore e una tariffa omnicomprensiva pari a 220 euro penso sia al kilowattore adesso non capisco questa terminologia però comunque sotto queste appoggi la somma totale di queste digirate sarà pari a 453.000 euro questa era soltanto parte parte dell'operazione perché non mi sarei imbegolato per queste somme soprattutto per quello che stavo investendo io soprattutto anche in immagine qui si parlava del famoso servandone si parlava delle terme di crodo io credetti proprio in corda perché ragazzi se voi mi portate a casa vostra e entrate dove volete mi fate vedere che siete quelli che poi decidono le cose io credo in voi poi se dopo non va così io non ho più adesso che ho visto che nobili anche nobili si è infuriato si è infuriato si è infuriato di che cosa? cosa volete fare? lavare i panni in casa non dire niente stare zitto no non lo faccio avete qualche altra domanda voi? lei ha anche documenti che provano come sarebbe stata spartita la fetta della cornice idro avessi quello non sarei qua le spiego se il cornice idro scrive a Franco Panzetta allegando questo scusi eh c'è qualcosa che c'è è chiaro mi serve quello che mi chiede lei perché una società veicolo che cos'è? quella che conoscete? guarda io ho conosciuto S.A.S.R.L. S.P.A. S.A.V.C. S.A.S. ma su stavicolo scusate S.V. un SUV non lo conosco soprattutto perché mi dovrebbe pagare una rata all'inizio di 100.000 all'inizio del secondo anno 250.000 euro signori ma quanto rendono se c'entra i tre lezzi e soprattutto poi 45.000 euro di renta per 10 anni questo è quello che andava a me una parte perché comunque poi ci sarebbe essere una seconda centralina che sarebbe stata fatta più in alto però risultava più piccolina a me ovviamente il 30% andava a detta del sindaco di Crodo a Cordo e al senatore perché i famosi 30, 60, 90 che io sono traversati li ho versati a suo dire per agevolare il mio lavoro per agevolare appunto la costruzione di questa centralina e perché comunque mi avrebbe fatto comodo il fatto che il senatore Valtazzaretta mi avrebbe dato la possibilità di poter fare questa operazione questo finanziamento perché perdonatemi io non sono nessuno cioè io sono un ragazzo che comunque è vero se mi chiedi 400.000 euro può essere che nel giro di un anno te li dirò su ma qua si parlava di un'operazione di più di 25 milioni di euro perché la ristrutturazione delle termine di Crodo signori non so se avete mai visto quei capannoni se possono guardare sono incredibili poi c'era anche il discorso della seggiovia guarda io vedo se vi faccio vedere magari di Uttini ecco ad esempio questa qua è una delle delle tante mail di Uttini che scrive ecco ad esempio questa qua allora Uttini Graziano scrive a Natalia la mia assistente che a sua volta non dirò il cognome perché ha chiesto di non essere vabbè Natalia ce ne possono essere tante e a Rodolfo Corda quindi scrive alla mia assistente e al sindaco questo lo scrive il primo febbraio del 2010 alle 8.35 del mattino no scusate la sera ora è una 5pm buonasera invio elementi richiesti con vostra precedente sperando di essere esauriente non avendo la possibilità di ottenere un file tifo ritenuto di inviare la planimetria in formato di VJ che credo sia ancora meglio i dati dello stramazzo sono Enel ma non diciamolo la quota del pluviometro del Vannino è a metri di SL metri 2 2.165 ho raccolto i dati tra virgolette sempre Enel ancora da elaborare anche dei pluviometri di Morasco e Sabbione grazie a disposizioni a disposizione poi devo dire eh sono io eh disposizione chi sono io perché devi mettere a disposizione mia o dargli assistente tutti ringraziano e di queste ce ne sono centinaia questi sono documenti che poi i vari allegati che poi mi mandavano qua c'era da fare qua ovviamente poi si erano sbilanciati perché quando poi dopo io inizio con la città seria per chiedere il finanziamento su in regione l'avrei trovata perché ho tanti agganci ovviamente parlavano anche di una seggio di riposto volevano fare un bar solarium qua c'è un ski bar con solarium sul pianore individuato voi dovete pensare che a me di questa cosa qua non me ne fregava nulla a me interessa era soltanto il guadagno sono obiettivo a me che il cervandone bruciasse che il cervandone cadesse a pezzi a me sinceramente non me ne fregava niente a me mi spiace mi duele dirlo a voi ma io non sono di là ma in quell'albergo poco mi importa io lo vedevo come un rudere però qualsiasi rudere in una zona rossa dove tra virgolette apre chiudo la parentesi il senatore a quanto so e forse anche a Sime ma il senatore sono sicuro ha delle proprietà che a suo dire valgono parecchio perché lui non si può più costruire si può solo ristrutturare e se ovviamente tutto questo sarebbe andato in porto avrebbe acquisito un notevole valore aggiuntivo 400 mila euro l'albergo Cervandone ma non lo vuole nessuno l'albergo Cervandone ha dichiarato anche i signorini ma me l'aveva detto anche a me ma chi non comprerebbe l'albergo Cervandone a 400 mila euro è in una zona rossa è un posto favoloso io sono sicuro sono in grado di comprarlo oggi e vendolo fra una settimana almeno al doppio signori l'albergo Cervandone ha capito che cade a pezzi ma è una bella zona la vostra cioè le prospettive lì ce ne sono tante poi tra virgolette io avevo fatto la pensata di utilizzare la centrale dietro perché veniva proprio dietro l'albergo cioè di usare quella centrale proprio anche per per la corrente del mio locale l'avrei probabilmente venduto non me ne sarei interessato perché a me non interessava nulla però comunque a me non me ne fregava niente tutte queste questi dati io li davo a Orazio Privitera non servivano mica a me a me che me fregava io non so manco cos'è un non so manco cos'è un piliometro non so manco cos'è il bannino cioè per fare un esempio parlo proprio da persona che non conosce i fatti ecco questo esempio è un'altra che Ottini manda alla mia segreteria Rodolfo Corda il 22 gennaio 2010 alle 4.37 del pomeriggio buongiorno con la Presidente invio file con elementi già lavorati in mio possesso spero necessario lo studio in oggetto ritengo che possano al momento essere utili ad impostare quanto prefissato con il precedente incontro rimango a completa disposizione due punti esclavative grazie Ottimi Giovedo Graziano la mia assistente gli scrive sia Ottini che al sindaco buongiorno come da istruzioni nel signor Enrichiello Ivan lei noto le questioni riguardate l'impianto idroelettrico e il bacino per le quali necessitiamo di una sua risposta quanto prima possibile cordiali saluti Natalia ma ma io mi dico ma quest'Uttini ma chi è ma chi è lavorato per me quest'Uttini ma perché doveva essere così disponibile con me io ho paura che non ma neanche tanto che non riescano a trovare le tracce di quei soldi perché a quel punto la diffamazione io so che il sindaco il caro sindaco corda si inventerà l'immagine lo conosco con l'ausilio dei suoi legali si inventerà il film perché se lo inventerà non so che cosa si potrà inventare però qualcosa si inventerà però io sono convinto che quando troveranno le tracce di questi soldi le trovano perché io sono sicuro perché quando tu possa essere intelligente muovere 90.000 euro in pochi mesi a meno che non li metti sotto una mattonella e non li porti direttamente in Svizzera dove lui tra virgolette se non erro ha un conto in Svizzera è difficile farli sparire quindi troveranno qualcosa tutti sempre componenti comunque ma i passaggi sono di tre e ovviamente lei mi hai visto pagare una tangente una tangente in assegna cioè vabbè è tutto però la tangente con un assegno io la vedo molto grigia ma quando la fare sfumò che cosa le disse allora io non vorrei tanto parlare di questo ma le spiego anche perché io oggi ho un figlio faccio una vita completamente differente da prima sto prendendo un nuovo locale qui a Milano e voglio cambiare vita io in quel periodo non stavo molto bene diciamo che mi trovavo in una situazione in cui grazie a amici collaboratori mi hanno un po' aiutato ma vogliamo dire che forse mi ero montato un po' la testa può essere può succedere quindi io spendevo spandevo mi rinchiudevo in casa i giorni senza dormire ovviamente fate voi i conti due più due come facevo io a non dormire per diversi giorni il mio mondo era quello pur che non mi piacesse ma quello era e quindi il mio stato psicofisico non era più quello di oggi neanche quello di prima era uno stato psicofisico dove vedi tutto in maniera diversa dove comunque io non so se nessuno di voi mi auguro spero di no abbia mai passato un periodo del genere ma vedi le cose in maniera diversa i 30, 60, 90 poco ti importa credetemi ti importa sai che cosa che quel piatto vicino al tuo letto sia pieno sempre quello ti importa il resto non ti affiega niente anche perché 90.000 euro a quell'epoca nel 2009 ma non per un banto mi vergogno di questo io li spendevo forse in due mesi quindi soltanto di quello per farvi due conti dopodiché ecco per dirvi appunto il sindaco mi disse all'epoca voleva chiedermi perché io a marzo ho sospeso perché no però proprio per questo punto di nevorezza che ci stai dicendo di quel periodo che ci lascia intuire cose che viene inizio lo intuisce lei io no ma non teme che qualcuno di fenestica sarei inventati tutte se le viste nel mondo del film si però può essere può essere ma ribadisco vedete che sono l'unico forse di tutti questi attori come l'ha definito anche il dottor Nobile che in realtà dice quello che realmente pensa e dice quello che è successo non ho bisogno di una stesura oggi ho letto queste due righe ma per un semplice motivo perché un domani mi viene una debattura e dichiarato aspetta ho letto fammi vedere che cosa ho dichiarato ma non mi preoccupa perché è la verità io è vero sì che possono dire che ero in un mondo un po' particolare ma ho tanta gente come i miei collaboratori amici che possono dimostrare che in quel periodo io gestivo tre locali insieme contemporaneamente tre locali insieme ed erano i locali più in di Milano non stiamo parlando di tre bettole quindi io sono sempre molto lucido per quanto riguarda il discorso business sono meno lucido nella mutazione delle persone sono meno lucido io vivo in una casa con 30 telecamere per farvi un esempio con 30 telecamere io sono paranoico io vivo nel terrore perché perché comunque ribadisco quell'anno mi ha portato veramente a distruggere parte della mia della mia integrità psicofisica devo dire anche una cosa loro potrebbero usarla sì contro di me questa cosa ma ribadisco non mi preoccupa perché le mail non è che partivano da sole l'assegno non è che è volato da crodo così è arrivato nel mio ufficio a Lugano e poi si è depositato sul mio conto quel giorno lì poi tra virgolette sapete perché ricordo bene quell'assegno perché quando me lo portò mi portò mi portò piacere piacere io ritirai proprio quel pomeriggio la mia Aston Martin che avevo comprato nuova in Svizzera che mi fece personalizzare il 666 e lui mi disse mi ricordo cazzo sei riuscito anche a farti personalizzare la targa perché in gergo a me mi chiamano David il diavolo gli ho fatto un patto col diavolo peccato di non averlo fatto mi sarebbe piaciuto farlo quindi voglio dire in quel periodo Corda a un certo punto mi dice che è tutto fermo che ci sono dei problemi ma questo lo ribadisce in quella intercettazione che io sono riuscito a registrare con lui alla fine telefonata dice adesso perdonatemi se non sono preciso ma la sintesi è quella non avendo il telefono della sottomana mi dice ci sono stati dei problemi sembrava che tutto dovesse fermarsi ma poi la costanza la tenacia mi hanno portato a risalire e devo dire che quando poi Corda verso giugno vi dicendo continuava a mandare mail del tipo a Crodo e a Baceno si aspetta sempre cordialità signico di Crodo buongiorno signor Ivan ma non doveva salire per una visita io speravo di incontrare Lugano in occasione di una mia visita da quelle parti casualmente il sindaco Corda è spesso Lugano lui piace Val Lago Pesca ma nessun ufficio non ho mai trovato nessuno attendo le sue notizie perché qui gli sviluppi sono molti che sviluppi erano io sinceramente sapete cosa pensavo ecco questa è un'altra buongiorno Ivan dopo la mia ultima mene trascorso un mischietto lasso di tempo non ho più avuto sue notizie no tue notizie perdona mi saranno due qui sta procedendo il tutto ma prendo tua visita per chiarimenti circa le iniziative da portare avanti sia in quel di Crodo sia in quel di Regano ho sempre imprenditore luganese che vuole incontrarti per valutare possibili le tue collaborazioni all'iniziativa puntini putini ha attenduto nuova e distintamente di saluto ciauro di corte ma è vero non ci sono i soldi non ho le copie le copie di soldi non ce li ho no perdonatemi ma un giudice un magistrato di PM io non ti dico che debba condannarlo con questo ma che almeno dia delle spiegazioni perché queste perdonatemi cioè delle spiegazioni tu le devi dare perché sono chiare poi ovviamente tutti gli anni buon anno buon 2011 mi mandava sempre le care foto direttamente da Corda Rodolfo chiocciolpme.com le foto tutti gli anni dei nostri lavori del caro albergo Cervandone del io signori che vi devo dire io oggi sono venuto perché spero davvero che voi possiate darmi una mano ma non perché voi dovete appartire cioè voi siete giornalisti e non lo fa il suo però cercate di credermi io quei soldi li ho versati io oggi davvero mi trovo un sacco di rinunce problemi anche inerenti al fatto che siccome alcune di quelle quote io vi vendetti a terzi perché ovviamente con tutto il business che c'era dietro a me che mi fregava di guadagnavo già bene di mio quindi c'è detto delle quote a lui delle quote a lei il problema è che quando poi dopo gli affari non si conclusero ho capito che io non stavo benissimo e pensavo che con queste mail il carissimo Corda mi volesse in qualche modo io pensavo avessero preso loro con queste mail che mi manda magari mi vogliono mettere loro in condizione di dire lui c'entrava lui ha fatto lui io non rispondevo neanche io queste mail non ho mai risposto se le voi vedete infatti c'è solo la mail che arriva da Corda ma io non gli rispondo perché avevo paura proprio per quel periodo non bello che il caro Corda mi dicesse ah sì e magari fosse lì con gli impirenti fosse lì con con gli avvocati non lo so quello che ho fatto poi io con lui perché la realtà è quello io oggi purtroppo spero davvero che mi possiate aiutare perché io questo lo ho tenuto fuori io continuerò davvero a fare nomi ho deciso che davvero tutti quelli che sono coinvolti in questa cosa le banche comprese gli istituti finanziari compresi li tiro in bala tutti e non a parole i documenti falsificati firme contratti io li ho tutti quindi il caso sono due mi fanno sparire ma se mi fanno sparire io non mi suicido amo la vita quindi è possibile che mi ammazzi da solo quindi se mi ammazzano se mi trovano impiccato non sono stato io mi hanno impiccato cerco di sdrammatizzare ovviamente in questa cosa però non sono sereno davvero perché sapete dal momento in cui vado a prendere io lo definisco no non voglio usare una terminologia brutta perché è brutto ma finché vado a prendere un corda Rodolfo che poco conta anche come persona è un film vai a toccare un senatore semmai c'entra in una vicenda sia chiaro semmai dovesse centrare in questa vicenda è un altro ma se vai a toccare potenti come banca istituti finanziari di vicenda ci sono troppi interessi in comune io lo so che davvero sembra paradossale in verosimere ma ho visto nei miei ultimi tre anni tutto qualsiasi cosa ho fatto qualsiasi cosa posso dimostrare che nulla è veramente impossibile perché comunque ma non solo per il dio denaro ma anche per le conoscenze che che mi sono fatto in questi anni oggi voglio ripartire da zero basta oggi sono stanco a un bambino voglio ripartire da zero pagherò pagherò per forza sono obbligato a pagare cioè non è che posso io non pago ma avrei pagato comunque ho solo anticipato i tempi gli eventi perché prima o poi da me sarebbero arrivati avrebbero bussato come hanno fatto questa mattina e mi avrebbero sequestrato tutto perché purtroppo non è solo il caso Corba il caso Crodo poi il caso Richiello nel senso che ci sono altre situazioni sempre in contemporanea con queste o concomitanti con queste di situazioni che comunque sarebbero saltate fuori io ho soltanto anticipato i tempi perché ho detto sono stanco di non so se mi ha capitato di avere un peso dentro dici cazzo io lo devo treforzo basta intanto lo devo pagare per forza è inutile aspettare che arrivi da quella porta l'uomo nero e che cazzo apri lo guardi finisci ti prendi lo spaghetto finisci lì ma almeno è finita e questo per me è importante però ovviamente se io pago e dovrò pagare ma io non pago da solo non pago da solo perché non mi reputo non penso di aver commesso questo grande sbaglio non aver dato dei soldi non la vedo una cosa così grave cioè avrei visto magari più grave o che ne so io una truffa piuttosto che sto denunciando anche per quello visto come tutte le quote che poi non hanno reso nulla ma non ho fatto nulla di grave non mi sento in colpa io quando vado a letto la sera io do almo sereno perché non ovviamente le conseguenze saranno quelle che saranno ma vado almo sereno perché sono pulito con la mia coscienza uno dice ma cazzo la guardia di finanza stamattina mi dice ma scusi ma l'avvocato non mi chiama no perché non mi serve quando mi servirà andrò dai miei legali le chiamo e dico le cari venite subito dovevo sistemare questa cosa beh casualmente può anche essere il fatto che voi avete dichiarato che ho proprio oggi questo pomeriggio avremmo lasciato le dichiarazioni la finanza di Terbania persone non lo dico per fare la classica leccata le persone stupende no per il momento per quanto so io mi hanno consegnato una visa di garanzia abbiamo sequestrato parecchie documentazioni file audio anche fai video però non tutto inerente a questo ecco è il problema che adesso mi sono saltato fuori tre anni ecco con la finanza il contatto c'è stato solo sulla fine dopo il mio esposto dopo il mio esposto l'unico contatto tradizionalmente mi hanno fatto aspettare ma poi sono arrivati belli decisi sì solo questa mattina e fino a ora non è stato ascoltato da nessuno oltre a rispondere so che a brevissimo devo essere su vi dico solo questo a brevissimo devo andare su però devo parlare per farci con gli avvocati lì devo parlare per farci con l'avvocato magari posso presentarmi ma io queste cose qua perdonate le vedo solo nei film cioè chiama amore e chiama l'avvocato anche perché comunque loro hanno il diritto di entrare e di di sequestrarti quello che è morto in più devo dire che sono occupati in maniera molto sono stati dei veri signori delicati in tutto sapendo che in casa comunque c'era anche la mia compagna il mio figlio e poi seconda cosa lo ribadirò sempre ma perché tanto che cosa cambia l'ho fatto io l'esposto scusa ma io vengo là faccio l'esposto o a te ti dico guarda che io purtroppo mi sono trovato in questa situazione e poi la coppina a casa mia e chiama l'avvocato ma è un controsenso sono io che mi metto a disposizione vostra e mi sono messo a loro disposizione quindi non è che in casa io avessi che non so avevo delle armi le hanno controllate hanno controllato se avevo le mie munizioni le mie armi se avevo depositato il numero di serie della pistola piuttosto che hanno controllato tutto hanno trovato tutto in ordine hanno sequestrato quello che gli serviva vi dicendo ma rimanisco ma tutto è suggerente inerente a questo purtroppo no purtroppo no perché ovviamente dal momento in cui mi è stato chiesto di consegnare questi famosi grazie a voi questi famosi file audio video io l'unico audio del sindaco l'avevo sul cellulare io nonostante che abbia tutto Apple non sono riuscito a scaricarli a trovare il modo quindi si sono presi il telefono e se lo sono portato hanno scaricato qualsiasi documento che hanno trovato nel mio computer se lo sono stampato e se lo sono portato hanno avuto la delicatezza di lasciarmi anche il computer per fortuna hanno tirato fuori tutto e si sono portati tutto hanno stampato qualsiasi cosa adesso il telefono ovviamente l'hanno porto via perché un tecnico comunque lo dovrà esaminare e stapolerà quello che servirà ebbè ebbè questo è quanto si e poi basta poi hanno controllato tutto ma era tutto a posto non c'era nulla che non i file purtroppo le chiavette sono quattro chiavette anzi si quattro chiavette immaginatevi che ci sono registrazioni di registrazioni particolari foto che mi auguro che 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 lasciano tra virgolette visto che non c'entra niente questa cosa lasciano andare perché altrimenti veramente sono qua devo passare tre anni prima che finisce tutto mi auguro che si finisca così altre domande? qual'è la sensazione che magari qualcuno abbia visto questo scambio di soldi o in qualche modo lei ha firmato documentato? allora io quando adesso purtroppo non ho qua neanche questo quando mi resi conto che scopri il segretto dell'acqua il foro voario poi vidi Zanetta Nobili Briviterra Corda dico cazzi ma c'è è come uno schiaffo morale quello per me quella telefonata fu fatta in un momento limpido e di rabbia gli mandai quell'sms che riepilogandolo brevemente si riepilogandolo gli mandai un sms ma poi pensami se devo pure in colpa di non essere riuscito a restituire di questi più famosi di vicino a io ma c'è molto altro che la magistratura adesso ha in mano ma che non posso dire perché devono verificare loro prima loro così evito che stavolta si creano problemi ma tanto nel gioco di nostri malati verrà fuori anche questo penso perdonatemi ho perso un punto dove ero rimasto? prima della faroguario ah faroguario quindi quando capi questo io mandai un messaggio dove gli scrissi oh sindaco ciao come stai guarda mi sono ripreso anche finanziariamente ma abbiamo ancora il poggio del senatore ma di tutto procede ancora davvero cazzo dai fatti sentire lui mi risponde neanche dopo un'ora era di sera io ho messaggio verso le 8 e mezza lui mi risponde verso le 9 e mezza eh cazzo non ce l'ho data davanti però vabbè una cosa del tipo si 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 oh sono contentissimo sono felicissimo ma come va qua va avanti tutto non si è fermato nulla ma bisogna affrettarsi affacchè di che cosa non affrettarsi eh fatti sentire io ovviamente ho preso la foga gli faccio una telefonata registro lui inizialmente fa tutto perché deve far vedere un po' il film mi dice due volte che non vuole parlarne per telefono anche lì cioè se tu non vuoi parlare ma perché cioè non hai niente da nascondere ma perché non dovrei parlare liberamente io quando parlo con la mia compagna o se mi chiamate voi io parlo in maniera libera non devo nascondere nulla se sei una persona opposto non devi nascondere nulla e quando io ribadisco lo continuerò a ribadire cazzo se io ti dico non voglio perdere i soldi che ho investito il denaro che ho versato e tu mi dici eh beh ma che cazzo ma allora se tu non sai neanche di cosa parlo se mi chiama lei domani mattina mi dice Iva ma ascoltami ah sai mi girano un po' le palle ma la stiamo andando avanti col locale si ah perché cazzo con tutti i soldi che ho tirato fuori e dire ma scusa ma che cazzo scusate ma che soldi che soldi stai parlando è chiaro ma non è normale non viene scontaneo no non verrebbe a voi no vabbè comunque a me verrebbe spontaneo di dire ma di che soldi parli ma di che cosa stiamo parlando io ho cercato in quella telefonda di farlo parlare ma non è stato facile il problema è che il furbacchione il giorno dopo questo ha chiuso la chiamata ha detto cazzo vedete questo qua stava registrando qualcosa del genere infatti susseguono nei giorni nei giorni dopo altre 4-5 mail da parte mia guarda casualmente ero vicino a Verbaia cazzo potevo passare a trovarti ma ci sei cazzo ma sono oggi accomodate quando vieni a farlo io il pranzo non mi rispose più non mi rispose più perché perché non mi risponde più come cioè ci sono sempre risponde ma sempre risponde non mi rispondeva più non mi rispose più perché secondo me mangia la foglia infatti io preso la labia ormai gli avvocati che stavano partendo con tutto gli mandai un messaggio a Panzetta e a lui adesso vi dico più o meno la sintesi del messaggio con su scritto furbacchione non ti sei mangiato la foglia ti sei mangiato tutto l'albero cioè hai capito allora che ti stavo registrando comunque ormai quello che mi serviva ce l'ho già messaggio quello che mi serviva ce l'ho già ormai è aperto tutto io vi mando in galera tutti gliel'ho scritto sia a Sineco Corta che a ah sì sì vabbè chi si accorda che ho scritto anche a Panzetta che li mandavo in galera praticamente sui suoi cellulari anche lì perdonate ma una persona normale che riceve un messaggio del genere ma non ti dovrebbe rispondere a dire oh ma che sei impazzito o vai da un avvocato subito quindi quando lui disse Cesare ma un imprenditore ma io non so manco di che stiamo ma che stiamo ma che sei scemo ma che mamma mariderebbe per un bambino ma chiunque quando dice eh ma ma ha detto che era di Cesare ma io a Cesare ma come no ma c'è la mia assistente è casa mia quella scusatemi cioè nel senso è interessata a me quella casa che anche lì sono di mezzo delle banche uscirà fuori altre cose ma altre cose è casa mia tu sai che c'è la mia assistente la conosci molto bene ce la conosci benissimo gli mandi gli auguri tutti gli anni Natale, Pasqua l'hai vista centinaia di volte ha pure fatto perdonare un po' casca morto cioè se posso essere meno male che l'ha messa una persona seria perché è davvero una persona seria però voglio dire come fai a dire non lo conosco cioè cazzo di dire è palese no probabilmente secondo me lui pensava perché lo minacciai una volta lo minacciai di averne piene le palle perché comunque eh nel momento di crisi economica gli dissi ne ho piene le palle ma perché qua non esco in un modo o nell'altro qua bisogna recuperare e ci sono tante altre cose che in mano agli inquirenti oggi ma purtroppo non ve ne posso parlare mi sto chiesto di non parlarne se è possibile che dimostreranno che Corda comunque più di una volta mi scrive cerca di farmi recuperare facciamo così cerca di farmi recuperare nel denaro in altri modi ma cerca di farlo questo lo fa concretamente lo fa concretamente ribadisco non posso dirglielo però fa in modo che cerca cerca in qualche modo di darmi una mano con del lavoro per recuperare dei soldi a sua detta recuperava lui 15 mila euro gli avrei recuperato parte dei miei 90 mila ma perché comunque io ovviamente ero incazzato secondo me lui non avrebbe mai pensato nemmeno che io fossi andato perché lui diceva mica scello che si dovete denunciare e invece no sono scello proprio probabilmente il gioco si è rotto perché ormai era diventato un rubinetto aperto l'acqua quindi se tu apri il rubinetto cazzo prima o poi c'è il secchio sotto ok ma poi inizia l'acqua va il colpo la pagine cioè io mi ribadisco tutti quelli che mi sono vicini la mia ex assistente il mio collaboratore ancora oggi sanno quanto spendo io per dover per forza io non so non mi faccio in casa dimostrare ma purtroppo nel mio ambiente nel mio mondo dal momento in cui ti vedono sotto è finito io non so per mantenerti sulla giusta devi investire molto cioè fare macchine gli alberghi i ristoranti poi andartene e lasciare mangiare la trattoria del porto devi andare da Giannino magari a mangiare perché altrimenti non c'è nessuno ma mantenere dei collaboratori assistenti driver pensate che sia semplice alberghi uno non ci può finché non vede non capisce vieni in un locale ovviamente offri porti gli amici paghi tu è normale è una cosa normale ma anche io anche stamattina come ho speso tutti questi soldi così lei l'ha detto anche prima cioè tu in fondo la sua chiamiamola vendetta è saltata per si aveva il tuo cuore con quell'esposto e se ne è parlato si se no se non si è bene non fare con la telefonata non registrarla perché se ne è accorta ero troppo nervoso poi ero preso un po' dalla rabbia per quello che avrei dovuto video filmare non l'ho fatto perché è un mio orrore me ne pento ma me ne pento però ero troppo nervoso cioè ero talmente stato lì d'impito d'impito questa cosa cioè cazzo adesso lo chiamo lo faccio parlare presente quando non riesce a dormire che dici cazzo adesso voglio la verità me la devi dire ma ribadisco la vendetta sì ma non è tanto un discorso di vendetta è che tanto a me prima o poi sarebbero venuti comunque voi non conoscete la mia situazione giuridica comunque io sono messo signori da me sarebbero arrivati per forza perché purtroppo mi trovo al centro di tante situazioni che è normale che quando uno dice ma scusa ma tu come hai fatto ad avere la barca eh ma mi ha dato la mano quello lì chi io e tu come hai fatto eh ma hai dato la mano quello là io ormai avevo troppi mi ero ingrandito a tal punto che purtroppo eh ho la certezza matematica che venivano comunque io sono otto anni che non presento una dichiarazione di erediti lei si è tirato fuori dall'affare o è stato escluso? no io devo dire che sto io a escludermi dall'affare potenzialmente perché quando poi andò male anche il famoso non ne posso parlare cosa sta dicendo ma quando il sindaco mi disse che c'erano dei problemi e che c'era da sospendere non è mai detto basta è fallito e passo i soldi no mi disse soltanto che c'erano stati dei problemi in quel periodo e che dovevamo essere un attimino cauti sospendere un attimo marzo-oprile 2010 adesso non mi fate straparlare però quello non dovrà essere quindi io ribadisco capì che probabilmente era così che dovevo sospendere perché io pensai sinceramente a indagini non me lo disse il sindaco in maniera così chiara però mi disse che c'erano dei grossi problemi mi sono affermato un attimo tutto perché sono qua io ovviamente essendo già comunque nei miei problemi avendo comunque quel periodo che non stavo benissimo lo ribadisco insomma non ero molto lucido per pensare cazzo adesso cosa faccio la mia la mia prima reazione è stata no no lascia stare fate il cazzo che volete andate avanti voi questa è la mia prima reazione e lui quando continuava a mandarmmi le mail consuma qua ci aspettiamo siamo tutti disponibili tutto posto guarda che qua continua ma questo pensa che sono scemo magari poverino questo andava avanti no magari è andato avanti davvero e non era così scemo le cose le ha fatte so che comunque si è in contatto con un altro imprenditore di Bugano so che ha fatto altri interreg come li ha chiamati lui come mi ha scritto anche lui nell'ultimo sms è andato avanti io probabilmente se gli avessi detto vabbè ok andiamo avanti a quest'ora noi magari non eravamo neanche qua perché se io avessi chiuso questa operazione sinceramente non vedo perché avrei dovuto qui oggi a esporre quanto quanto appena dichiarato perché nel momento in cui avrei preso i miei soldini signori io sono sincero non sarei venuto da qua a dire adesso denuncio come frega ho preso il mio vai a casa avrei fatto questo però dopo che io mi sento in colpa perché pensavo la situazione mia psicofisica sin dopo che diceva io ho perso 15 mila euro ma di che? ma te ne andati i 90 e ho capito ma 90 non li ho presi io io 90 li ho pagati quindi io comunque ho perso 15 mila euro dalla società svizzera io mi sentivo in colpa io ve lo giuro su mio figlio io mi sentivo in colpa ho detto cazzo ma Ivan ma hai collegato tutto sto coso tutto questo casino non lo stai bene ti stai conciendo a sbatter via e a quel povero Cristo che ti ha pure aiutato ma mi dovete credere che vada così quando poi dopo invece ovviamente vado a scopoire che sto fanno ah così sei preso da un giorno a cancellare la bus no quindi dal momento in cui dovranno dichiarare per forza che sanno che privi di te l'ho porto io è roba mia dovranno anche chiedersi perché privi di te mi doveva dare questi soldi probabilmente magari non lo sapevano privi di te quando è stato presentato da lei scusi? quando è stato presentato privi di te da lei privi di te non ricordo esattamente perché ribadisco nella denuncia comunque beh la mette una copia a tutti nella denuncia comunque c'è scritto il giorno in cui io ovviamente l'ho stesa con gli avvocati perché sono risalito tramite le agende dell'epoca che casualmente la mia assistente aveva ancora a casa questo è stato un colpo di fortuna miglio come quella di formigoni eh formigoni poverino adesso voi ridete però ribadisco mi ricordo ancora Primiterra quando venne su andammo a berci una sorta di vin brulee fatto un po' neanche benissimo e un panino a salame mi ricordo l'albergo Cervandone qua noi dovevamo fare la strada dove c'erano i famosi parcheggi che disse che li ha fatti il senatore anche la galleria abbiamo fatto il lavoro della madonna qui noi in balle ma che in quella galleria mi fa ridere comunque i parcheggi non ne parliamo sembra Anturio che neanche qui sono sotto sotto al duomo le palline e mi ricordo che più in basso qua c'era una sorta di bar qualcosa del genere che ci ha detto una signora e mi ricordo ancora che prima che ci servisse siamo entrati dopo dieci minuti si stava morendo al freddo questa bufaretta è uscita si era mai accorta che stavamo lì per farti un esempio e lì c'era Previtera c'era il signor che era sempre con noi ovviamente perché ci portava Corda mi ha portato lui ovunque era lui che mi rappresentava ovunque e ovviamente aveva i suoi interessi lui io dalle sette dalle sette stamattina se sveglio avete qualche altra cosa da chiedere? io vi lascio questa qua dovete perdonarmi se sono un po' così sono un po' stanco sinceramente però chiedo chiedo più tardi chiamerò chiedere se posso lasciarvi questa documentazione se ve la giro a tutti in ugual misura tanto a me ribadisco poco importa mentre invece tutto il resto non posso ancora farvelo vedere perché mi hanno chiesto stamattina io oggi qua vi avrei fatto vedere il mondo le chiavette tutto di averne dato perché voglio uscire a far male se non avessero sequestrato ma questa è una domanda un po' vai vai da quando è scoppiato questo caso di contro immagino che tra lei e Coda non ci sia stato nessuno non mi rispondeva già più ancora prima quando mi dissi che l'avrei denunciato che l'avrei mandato in galera ma anzi non rispose più dopo la telefonata famosa io mandai altri 4-5 messaggi a lui dopo quella telefonata che registrai però non ebbi più nessun tipo di contatto no no alcun tipo di contatto quindi io sono rimasto così spero di essere steso audiente e adesso vediamo di là come andrà io so che a breve devo salire quindi cercherò di tenere informati e ok allora questa ce la ci facciamo ci facciamo grazie Grazie. 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 Grazie.